Hai paura per me? Certo che ho paura. Questo è il punto dove sono sceso con Enrique. Ma tu non andare fino al fondo. Sarebbe pericoloso. E se senti uno strano senso di stanchezza, di abbandono, risali subito. È un avvertimento di pericolo. Vuol dire che stai entrando in un'altra dimensione. Ma non lasciarti andare. Torna su subito, mi raccomando. Non devi aspettare. Perdere un solo istante può essere troppo tardi. Non devi aspettare. Pericolo a scissi. Pericolo a scissi. Non devi aspettare. Grazie a tutti. Paco, aiutala!